Ciao a tutti, siamo Naomi e Claudia della classe quarta turistico dell'Istituto Ipsa L'Altusi di Chianciano Terme. La nostra classe ha pensato di poter realizzare due diversi tipi di pacchetto rivolti a un turismo di tipo studentesco. Tali proposte sono state elaborate da due diversi gruppi di lavoro in collaborazione con gli alberghi di Chianciano e sono state rivolte a il primo itinerario a un target di età compresa tra i 12 e i 15 anni rivolto a ragazzi italiani, il secondo itinerario per un target di età compresa tra i 16 e i 20 anni rivolto a ragazzi stranieri. Per i ragazzi italiani si tratta di un itinerario monotematico strettamente legato alle valenze territoriali, mentre nel secondo ci sposteremo alle più importanti città toscane poiché la loro visita non poteva mancare dato la loro importanza culturale. In alcuni giorni gli studenti saranno ospiti presso il nostro istituto, inoltre in base alla stagione in cui verranno effettuati i viaggi le proposte saranno parzialmente modificate e durante le uscite faremo noi da accompagnatori. Se hai ancora dei dubbi clicca sull'icona successiva!